Buonasera, in prima pagina torniamo ad occuparci della vicenda del nuovo porto turistico d'Imperi e purtroppo ci vediamo costretti a replicare al sindaco Carlo Capacci che ha accusato Imperia TV di aver divulgato una notizia campata per aria. Della risposta al primo cittadino imperiese, carte alla mano, se ne è incaricato il collega Andrea Pomanti. Sentiamo. Torniamo sulla vicenda del nuovo porto turistico d'Imperia, sui rischi che sta correndo e mi vedo costretto a fare un intervento in prima persona perché dopo 29 anni di attività seria da parte di Imperia TV che appunto ha appena festeggiato 29 anni e sta entrando nel trentesimo anno, devo dire con fermezza e decisione che non sono disposto ad accettare, né io né il resto dello staff di Imperia TV, da nessuno, nemmeno dal sindaco della città di Imperia che si possano bollare le notizie diffuse da Imperia TV come campate per aria. Questo ha detto Carlo Capacci. Campata per aria la notizia sul porto di Imperia, sul fatto che sia stata respinta l'offerta da parte della Goa Imperia, fatta dalla Goa Imperia, respinta dai curatori fallimentari della Portospa, l'offerta di acquisto. Ebbene, visto che il sindaco a noi non risponde al telefono, preferisce divulgare le sue informazioni attraverso altri organi, liberissimo di farlo, ma ora le dimostro che di campato per aria qui non c'è proprio nulla se non le sue di affermazioni, caro sindaco, perché c'è una lettera che parla chiaro, una lettera che avete tenuto nei cassetti per oltre una settimana, questo secondo noi è un fatto grave perché i cittadini devono sapere e il mestiere dei giornalisti è quello di far sapere le notizie. E allora vediamola questa lettera, è una lettera inviata alla Goa Imperia, SRL, società interamente di proprietà del Comune, dai curatori fallimentari della Portospa che dicono riscontriamo la vostra lettera del 30 novembre 2015 per comunicarvi che la proposta transattiva IVI contenuta non può in alcun modo essere accettata dal fallimento da noi rappresentato per una serie di motivi che andiamo di seguito a sintetizzare. Poi c'è un elenco, una spiegazione del perché fra cui, prendo un altro passaggio di questa lettera, ancora più inaccettabile è la vostra proposta di rateizzare il pagamento del prezzo secondo tempi non preventivabili. Poi vanno avanti ancora i curatori e scrivono La proposta transattiva non risulta neppure sottoscritta dal Comune d'Imperia nella persona del suo sindaco protempore sicché ad oggi nessuna proposta transattiva è stata sottoposta dallo stesso Comune agli organi della procedura. E ancora il finale di questa missiva con ogni più ampia riserva di far valere i diritti risarcitori del fallimento nei vostri riguardi che significa il diritto di chiedervi danni discendenti dall'imperimento di qui sopra stante la prossima scadenza contrattuale vi ricordiamo l'obbligo di riconsegnare l'azienda da voi detenuta a far data dal 1 gennaio 2016. Quindi non mi sembra proprio che ci sia un qualcosa di campato per aria ahimè verba volant ma scripta manent dicevano i vecchi Lei poi parla di gufi che si augurano che la Goimperia esca dal porto e che dal 1 gennaio se questo accadesse ci sarebbero 30 dipendenti a casa beh non so chi siano questi gufi certamente non noi che ci auguriamo che facciate qualunque cosa anche a costo di incatenarvi nel porto per non uscire da lì e per continuare a gestirlo e non farlo chiudere per far lavorare quelle 30 persone perché oggi Imperia non si può permettere di perdere altri 30 posti di lavoro ci mancherebbe altro l'augurio è esattamente il contrario ma qui la notizia c'è a nostro avviso andava diffusa crediamo di aver fatto ancora una volta il nostro dovere come facciamo da 29 anni e come ripeto rispediamo al mittente l'accusa di divulgare notizie campate per aria le notizie ci sono sono pesanti forse dispiace sentirle forse qualcuno sperava che questa cosa restasse ancora nei cassetti ma il nostro dovere è un altro e sempre in merito alla vicenda del nuovo porto turistico imperiese il sindaco Carlo Capace ha affidato ad un comunicato stampa la posizione del comune e della Goimperia in particolare in una servizia sulla vicenda della bocciatura da parte della curatera fallimentare della Porto Spa della proposta di acquisto del nuovo porto formulata dalla società comunale Goimperia è intervenuto oggi con una nota il sindaco Carlo Capaci il primo cittadino ha evidenziato che la Goimperia nei termini contrattualmente previsti ha formulato la proposta di acquisto in linea con quanto deliberato dal Consiglio Comunale predisponendo un piano industriale ed economico finanziario del servizio pubblico locale che attesti senza alcun ragionevole dubbio la sostenibilità dell'operazione e la congruità del prezzo richiesto Capaci specifica anche che la proposta ha tenuto conto della necessaria valutazione della sostenibilità che dipende dalla concessione demaniale marittima sottolineando che la sostenibilità economica c'è se c'è la concessione demaniale Carlo Capaci ha anche ricordato che Goimperia ha salvaguardato i lavoratori e gli utenti del porto e laddove la società dovesse restituire l'azienda affittata dalla Porto Spa dal primo gennaio 2016 gli attuali dipendenti rimarrebbero a casa e la Go continuerebbe a gestire il bacino portuale in autonomia anche se gli utenti del porto non in regola con Goimperia non potrebbero più restare nel bacino Capaci infine smentisce che il comune rischi di dover pagare dei danni alla curatera falimentare nonostante i curatori della Porto Spa abbiano scritto con evidenza questa ipotesi nella lettera con la quale hanno bocciato la proposta di Goimperia Nuova colpa di scena nella maggioranza che sostiene il sindaco di Imperia Carlo Capaci di sera in consiglio comunale il consigliere Alessandro Savioli si è dimesso dal capogruppo di Imperia Cambia le dimissioni di Savioli diventeranno effettive dal prossimo consiglio convocato per il 21 dicembre sembra che all'origine di questa scelta vi siano dei dissidi interni al gruppo di maggioranza e tra le pratiche varate ieri sera dal consiglio comunale di Imperia anche il riconoscimento di interesse pubblico del progetto di recupero e il riutilizzo funzionale dell'area ex-Sairo sito industriale in abbandono dall'ugustria alle spalle del porto e degli impianti sportivi di Imperia il progetto riguarda la riqualificazione dell'immobile dando nuovi spazi alla città dalla palestra all'ostello, dai locali commerciali e parcheggi il corpo di fabbrica principale, quello della raffineria dichiarato di interesse storico sarà mantenuto e ospiterà un ostello con 28 camere polemiche a Sanremo in vista del prossimo consiglio comunale che prevede la discussione della presa d'atto degli esiti delle procedure di dismissione dell'ex tribunale il capogruppo di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale Luca Lombardi questa mattina ha disertato la riunione della commissione consigliare competente giudicandola inutile secondo Lombardi infatti quanto premesso in discussione sarebbe già stato deciso dalla maggioranza senza margine di intervento è paradossale, ha detto che questa mattina sono stati chiamati a parlare in una pratica che nella sostanza è già stata decisa in sostanza vengono inoltre sollevate critiche alla vendita dell'immobile e allo sconto che si sarebbe disposti ad accettare pari al 40% che non garantirebbe neanche il rispetto del patto di stabilità un ampio programma di interventi per sistemare la viabilità dell'entroterra è stato messo a punto dalla provincia d'Imperio con uno stanziamento di 300.000 euro per le asfaltature nei giorni scorsi il presidente Fabio Natta insieme ai consiglieri delegati Antonio Fimmarò e Fabio Luigino Dell'Erba incontrati i tecnici dell'ufficio strade con i quali sono stati concordati gli interventi in programma da febbraio i lavori inizieranno alle quote più basse per poi proseguire sino alla fine di primavera alle quote più alte le strade interessate saranno una quindicina il consiglio regionale ha approvato le modifiche sugli interventi a sostegno delle attività commerciali introducendo misure a tutela delle botteghe dell'entroterra la soddisfazione è stata espressa dall'assessore allo sviluppo economico e dal commercio Edoardo Rixi che ha anche assicurato una copertura economica al provvedimento di un milione di euro per il 2016 cambiamo argomento alla questura d'Imperia in vista della notte del 31 dicembre ha presentato un vademecom sul responsabile uso dei fuochi d'artificio il documento sarà scaricabile dal sito della polizia a parlarcene è stato il dirigente dell'ufficio prevenzione generale della questura d'Imperia Raimondo Martorano sentiamo con le vacanze natalizie e con l'approssimarsi della notte del 31 dicembre si ripropone come ogni anno la questione dei fuochi artificiali dei fuochi pirotecnici, dei petardi insomma di tutti quei mezzi con cui si vuole festeggiare la chiusura dell'anno vecchio e l'arrivo dell'anno nuovo siamo in questura d'Imperia insieme al dirigente dell'ufficio prevenzione generale il dottor Raimondo Martorano un momento di festa che però spesso si traduce in un problema vero e proprio ed è per questo che la questura interviene ponendo i propri consigli per l'utilizzo di questi materiali esatto, un vademecum che abbiamo elaborato e che è sinteticamente una sorta di strumento di conoscenza e di utilizzo approfondito di tutti quelli che sono gli oggetti che poi verranno di fatto utilizzati per i festeggiamenti del Capodanno è un manuale molto sintetico ma secondo noi completo che non solo fornisce le indicazioni normative sulla tipologia di materiale quindi liberamente acquistabile ma soprattutto un manuale operativo e cioè i consigli pratici che coloro che utilizzeranno i fuochi di artificio dovranno necessariamente eseguire per limitare il più possibile eventuali danni collaterali intanto grande attenzione alle etichette esatto sulle etichette il consumatore e l'acquirente dovrà necessariamente trovare tutte le indicazioni non solo sulle modalità di utilizzo ma sulla provenienza e sulla conformità dell'oggetto alla normativa vigente è in sostanza una sorta di carta di identità dell'oggetto con la quale il consumatore potrà interfacciare per meglio comprendere la tipologia della merce che sta acquistando quindi per far capire ai telespettatori se noi troviamo un fuoco pirotecnico con lingua solo straniera a prescindere non va bene esatto è un campanello d'allarme chiaro ed evidente il venditore non può procedere alla vendita di quell'oggetto e quindi anche in quel caso che è il caso tipo noi invitiamo la cittadinanza a segnalarlo al 113 alla polizia ci sono diverse tipologie di fuochi anche differenziati per età esatto nel nostro vademecum abbiamo indicato le fasce di età di persone che possono acquistare questi oggetti e il primo richiamo evidente e chiaro è quello relativo ai minori di anni 14 i minori di anni 14 non possono acquistare alcun tipo di materiale pirotecnico dai 14 anni in su in funzione della tipologia di merce invece esistono delle autorizzazioni delle licenze che consentono ai soggetti di acquistare questi oggetti cosa si rischia la detenzione? chi detiene illegalmente un fuoco e poi chi lo vende? chi lo vende rischia anche la sospensione della licenza per quanto invece riguarda il possesso in funzione della tipologia del materiale materiale che viene rinvenuto nella disponibilità della persona sottoposta al controllo controllo diverse sanzioni si arriva anche fino alla denuncia per porto abusivo d'arma se il materiale ha delle caratteristiche tecniche che lo fanno di fatto assimilare ad un vero e proprio non avrebbe proprio arma anche la CISL insieme ad altri sindacati del settore punta il dito contro i vertici dell'ASA l'imperiese per quanto riguarda la gestione del personale e i disservizi che si stanno verificando negli ospedali a causa di continui tagli ai nostri microfoni Nico Zanchi responsabile del comparto sanità imperiese della CISL sentiamo Nico Zanchi della CISL sanità e il settore della sanità ancora una volta nel mirino c'è un problema di personale partiamo da quello dai tagli al personale che stanno creando problemi più che in passato perché addirittura si parla di trasferimenti di centinaia di chilometri sì esattamente è un problema che purtroppo si sta e da anni che discutiamo la cadenza del personale ma in quest'anno e già anche nel 2016 questo problema sarà ancora più grande proprio perché come stavi dicendo tu per assumere infermieri a parte che non ci sono risorse la regione ci deve dare delle risposte ma nel caso in cui assumessero e l'ASL1 non avesse un gradatore a disposizione bisogna andare in mobilità e se avrete la mobilità la regione mette a disposizione i vari gradatori sulla Spezia su Genova e bisogna pescare il personale lì assurdo per 1400 euro una persona si deve spostare dalla Spezia da Genova è un'assurdità è un'assurdità e come se questo non restasse gli infermieri che ci sono che lavorano già sotto organico devono occuparsi anche di cose che prima non facevano che non sono direttamente legate alle loro professioni infermieristiche esattamente guarda più che gli infermieri che purtroppo a volte anche sono costretti a fare questo parliamo del personale sociosanitario gli OS che prima del nuovo banda di gara regionale prima a Sanremo per esempio c'era la cooperativa che gestiva la distribuzione dei pasti a Imperiano ma la cooperativa se è su Imperio e se saremo faceva la prenotazione dei pasti che era un'operazione che è di due ore capisci che aver tolto due ore di assistenza agli operatori sociosanitari è una cosa gravissima che sta creando un sacco di problemi insieme alle altre organizzazioni sindacali chi in un modo chi in un altro stiamo cercando di e sarà meglio farlo tutti insieme di portare a casa un risultato che è quello di ridare assistenza alle persone di dare sia dignità ma chi ci sta rimettendo è il degente che è una cosa lampante che sta succedendo in questo periodo quello che dobbiamo fare è costringere l'amministrazione assolutamente a parte questo periodo ma le prime settimane di gennaio di fare una riunione e risolvere questo problema bilancio dell'attività svolta e sguardo proiettato verso il futuro per il GAC il gruppo di azione costiera il mare delle Alpi che questa mattina ha riunito soci e collaboratori nell'auditorium della Camera di Commercio ed Imperia un'occasione per fare il punto sulla situazione e guardare avanti vediamo Comandante Luciano Pischiet del rapporto fra il mare e i pescatori la guardia costiera è un rapporto molto stretto il GAC è questo organismo che raggruppa un po' anche le esigenze è un momento anche di confronto un mettersi in uno davanti all'altro e discutere per pianificare il futuro sì infatti un momento di confronto molto importante perché con un organismo come il GAC abbiamo messo assieme i vari soggetti importanti per la pesca non solo gli enti istituzionali ma soprattutto i soggetti principali che sono i pescatori che hanno avuto anche modo di rappresentare quelle che sono le loro esigenze dare voce ai pescatori significa dare voce alla pesca significa far avvenire fuori quali sono i problemi veri di questo importante settore produttivo non solo della regione Liguria ma d'Italia che spesso viene un po' sottovalutato il pescato non è soltanto il prodotto economico della pesca attiene alle nostre tradizioni attiene alla nostra nutrizione insomma un tavolo di confronto molto importante che speriamo possa continuare per il futuro Presidente Enrico Lupi per il GAC il gruppo di azione costiera è il momento di trarre dei bilanci di fare delle considerazioni ma anche di guardare verso la prospettiva futura ma il consuntivo così come dice il titolo del nostro convegno oggi missione compiuta va l'intervattivo e il futuro sull'attività svolta siamo estremamente soddisfatti perché abbiamo svolto diverse azioni in sinergia con i pescatori la società civile delle scuole la formazione gli enti istituzionali quindi credo che sia stata una bellissima esperienza ricordo che il GAC il mare delle Alpi era l'unico gruppo di azione costiere Ligure il futuro noi speriamo di poter concorrere rimanendo in essere questo gruppo di azione costiera per la nuova programmazione dei flag considerando anche che abbiamo cercato di essere interlocutori anche a livello comunitario delle peculiarità progettualità e problematiche che il mondo della pesca e della cultura del pesce rappresenta sul nostro territorio quindi con molta passione diciamo ci impegniamo ancora il gruppo è coeso la compagina dei sogni è molto motivata e spero che riusciremo a interagire ripeto con la regione Liguria con la comunità economica europea oggi le testimonianze donorevole Briano che è europarlamentare della commissione pesca ma anche il contributo della Thomas che è vicepresidente del gruppo socialista europeo e membro della commissione pesca con la quale siamo confrontati a Strasburgo ha portato a sbloccare ad esempio la situazione del rossetto della pesca del rossetto che per noi per i toscani è molto importante mi confermava stamattina il comandante che stanno partendo le prime licenze di pesca dei rossetti e l'annoso problema della pesca del tonno rosso che per il nostro mare è estremamente importante perché la ridefinizione delle quote che deve vedere è una distribuzione molto più parzializzata a favore della pesca artigianale non un monopolio di pochi grandi armatori ecco questa è un po' la sintesi del nostro pensiero e delle progettualità Barbara Resposto vicepresidente del GAC il mare delle Alpi un'esperienza importante abbiamo detto per i nostri pescatori hanno trovato anche delle integrazioni al ridito credo che abbiano fornito anche un qualcosa in più al settore turistico direi di sì il titolo del convegno specifica proprio missione compiuta ma adesso oltre a voler portare a conoscenza dei risultati di questo progetto che ci ha impegnati veramente tanto siamo già concentrati sul futuro noi siamo fatti così mentre realizziamo pensiamo già a cosa si può fare dopo abbiamo creato delle cose che anche alla fine del finanziamento pubblico viaggeranno con le loro gambe abbiamo stabilito anche rapporti commerciali per i pescatori abbiamo fatto una buona pubblicità ma soprattutto abbiamo tessuto importanti relazioni sia a livello comunitario nel senso con gli altri GAC partner dei progetti di cooperazione ma proprio anche con la commissione europea tanto che probabilmente l'onorevole Briano presenterà un documento per sollecitare quello che noi chiediamo da tempo insieme ai nostri colleghi cioè una definizione univoca delle attività di pescaturismo e titurismo noi non vogliamo entrare in competizione con il settore del turismo tipico non ne abbiamo le competenze e non ne saremo capaci vogliamo continuare a fare i pescatori a non essere buttati fuori dal settore ma poter avere la possibilità di usufruire di queste forme di integrazione del reddito e torniamo a parlare del piano casa approvato ieri dal consiglio regionale sentiamo nelle loro parole la soddisfazione per questo traguardo da parte del presidente della regione Liguria e della sessura all'urbanistica Marco Scaiola che hanno anche criticato il partito democratico l'opposizione per aver abbandonato l'aula polemiche sbagliate e pretestuose io spero sempre che queste opposizioni riescano prima o poi a dare un contributo costruttivo qualche buona idea al programma di governo e collaborare a mandare avanti una regione che ci hanno lasciato francamente con molte pecche evidentemente ormai la mania di protagonismo come si dice la delusione per avere perso una voglia di rivalza ma riposta gli impedisce ogni sereno ragionamento così noi non ci facciamo né intimidire né in qualche modo inibire andiamo avanti serenamente a fare quello che ci hanno chiesto i cittadini nelle urne il 31 di maggio e continueremo così mi auguro che prima o poi qualcuno si ravveda sulla via sulla via di Spezia o sulla via o sulla via della propria abituazione genovese e tutte le volte esco da questo consiglio deluso il regolamento del consiglio regionale è piuttosto chiaro il presidente del consiglio regionale lo applica con grande scrupolo a mio avviso talvolta anche con troppo scrupolo nei confronti di questo consiglio dove vedo tante chiacchiere pretestuose tanta perdita di tempo a spese dei cittadini tanta mania di protagonismo di chi ai cittadini questo protagonismo non lo hanno voluto dare e me ne spiaccio ma si tratta delle regole democratiche uno se ne dovrebbe anche come dire rendere conto e fare una ragione spero lo ripeto il mio appello accorato che le opposizioni propongano qualcosa di serio non facciano istruzionismo inutile non facciano perdere tempo a un consiglio che è pagato da tutti i cittadini degli italiani e i liguri in particolare e costa dei soldi dovrebbe produrre buone idee e buone leggi per loro mi dispiace dell'atteggiamento della minoranza ma in genere quando non si sa cosa dire quando non si argomenti cosa si fa si evita il confronto e quindi loro sono usciti dall'aula non tanto perché sono stati giustamente contingentati i tempi siamo rimasti dodici ore l'altro giorno per parlare di piano casa in commissione non hanno detto nulla nei nostri incontri sul territorio non hanno detto nulla volevano fare solamente del teatro e sperare che si perdesse del tempo noi non vogliamo perdere tempo con Burlando e la Paita si è già perso dieci anni la Ligura ha già perso dieci anni quindi noi siamo andati al dunque con un bellissimo disegno di legge che come ripeto non è la panacea dei problemi ma è uno strumento di legge che i liguri si aspettano che darà dei buoni risultati atteso dal terreno il territorio rispetta il territorio riqualifica il territorio e darà una mano sicuramente all'economia della Liguria il capogruppo della Lega Nord di Regione Alessandro Piana ha espresso soddisfazione per l'approvazione del piano casa e della nuova carta di esercizio Piana ha evidenziato che grazie a tutte le forze della maggioranza finalmente il piano casa è legge e da Giovanni saranno alle imprese edili e tutti 4.000 disoccupati del comparto e questo nonostante l'ostruzionismo da parte dell'opposizione Piana infine ha sottolineato come la carta di esercizio abbia lo scopo principale di combattere l'abusivismo e aiutare le imprese che vogliono mettersi in regola un nuovo incendio la scorsa notte a Sanremo ai danni di alcuni scooter che erano parcheggiati in strada Senatore Marsaglia i vigili del fuoco hanno lavorato un'ora prima di avere ragione delle fiamme e la strada è rimasta chiusa al traffico sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato accertamenti per capire con precisione quali siano le cause del rogo e se vi siano eventuali responsabilità penali da parte di qualcuno un uomo di 80 anni è stato denunciato per non aver prestato soccosto ad un ciclista che aveva investito è accaduto questa mattina sulla strada provinciale tra Vadino e San Fedele in provincia di Savona a chiamare la polizia è stato testimone che ha visto quanto accaduto il ciclista è stato trasferito all'ospedale Santa Corona di Pietraligure l'ottantenne che ha dichiarato di non essersi accorto di nulla è stato rintracciato grazie ai rottami dell'auto rimasti sul luogo dell'incidente e noi facciamo una breve pausa ci sentiamo subito dopo Novità importanti per gli studenti pendolari di Imperia è stata infatti attivata una fermata straordinaria nella stazione di Aneglia del regionale 20 miglia Savona un'altra fermata è stata poi definita per la stazione di Valle Crote in particolare in un servizio la regione sta lavorando per portare a regime il nuovo orario dei treni andando incontro alle esigenze del territorio e dei pendolari Liguri da Ventimiglia a Salzana in quest'ottica in collaborazione con Trenitalia e con il tavolo tecnico con le associazioni dei consumatori e i coordinamenti dei pendolari si stanno approntando alcune modifiche per colmare i gap che sono stati segnalati durante i tavoli tecnici precedenti in attesa anche di alcune controproposte alle soluzioni fino ad oggi messe in campo a confermarlo è l'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino in merito al nuovo orario ferroviario entrato in vigore in fase sperimentale il 13 dicembre l'assessore Berrino inoltre annuncia che è stata attivata la fermata straordinaria nella stazione di Imperia Uniglia dalle lunedì al sabato del regionale 6179 per andare incontro agli orari di entrata e di uscita degli studenti che si spostano lungo la tratta Ventimiglia Savona sempre il regionale 11.348 effettuerà una fermata straordinaria nella stazione di Valle Crosia prima del rientro dalle festività natalizie il 4 gennaio sarà poi attivato il Savona Albenga con partenza alle 13.50 e arrivo alle 14.42 e l'Albenga Savona con partenza alle 15.28 e arrivo alle 16.22 per studenti e pendolari novità anche sulla linea Sestri Levante La Spezia dal 4 gennaio per andare incontro anche alle esigenze legate ai turni serali di uscita degli operai della Fincantieri e della Arinox tutte le scelte che stiamo operando ha detto l'assessore Berrino sono il frutto di un'analisi condivisa e del confronto sia con Trenitalia sia con il tavolo tecnico le associazioni dei pendolari e con tutti gli enti coinvolti Serata cabaret con lo spettacolo Che paradiso è se non c'è il cabaret in favore della Lilt la Lecta di Amber e la lotta ai tumori sezione provinciale d'Imperia sul palco del teatro del Casino di Sanremo sotto la direzione artistica del maestro Armando Croce di Carmela Moffa l'attore Francesco Conte servizio è andato in scena ieri sera al teatro del Casino di Sanremo che paradiso è se non c'è il cabaret spettacolo di beneficenza in favore della Lilt sezione provinciale d'Imperia con la serata a ingresso gratuito sul palco sotto la direzione artistica del maestro Armando Croce e di Carmela Moffa l'attore Francesco Conte con la complicità di Francesco Conte e molti altri artisti gli ospiti presso il teatro dell'Opera del Casino di Sanremo hanno trascorso una gioiosissima serata a favore della Lilt divertimento puro insieme a giovani attori preparati ballerine e anche una cantante che hanno ricevuto applausi a scena aperta Francesco Conte è sceso recentemente alla ribalta delle cronache televisive per la partecipazione a fine ottobre alla reality dei talenti di Canale 5 Tussiche Vales in quell'occasione Francesco giovane con un grande sogno ha commosso anche la bella Belen Rodriguez presentandosi sul palco e spiegando candidamente sono nato da due genitori sordi sono cresciuto in mezzo alla strada a 14 anni non sapevo manco parlare per 14 anni non ho visto nemmeno mia mamma ma in tutti questi anni avevo solo un sogno fare l'attore capelli ricci alla Massimo Troisi e sorriso luminoso Francesco è capace di catturare tutti con le sue capacità e lo fa con una grinta eccezionale infatti il giovane di Napoli è non udente ma parla e recita in modo molto emozionante l'attore partenopeo con questo spettacolo ha voluto rendere omaggio a Sanremo e soprattutto alla sezione Liltia si sente molto legato grazie agli appuntamenti voluti da anni dal maestro Croce e resi possibili dal suo eccellente staff da anni in città prodano tanti ragazzi tante giovani promesse artistiche che danno vita a spettacoli coinvolgenti a cui la Lilt collabora e cui si è sempre devoluto e ricavato anni fa Francesco era fra quei ragazzi un talento che proprio a Sanremo ha così potuto esprimersi e offrire in pubblico la bellissima voce del suo sogno ricordiamo che domani alle 10 nella Basilica con Cattedrale di San Maurizio ad Imperia il vescovo Monsignor Mario Oliveri conferirà il diaconato permanente ad Alex Dell'Erba in servizio nell'arma dei Carabinieri d'arbitro di calcio della parrocchia di Aurigo e Luciano Lella dipendente della Croce Rossa della parrocchia di Cristo Re Salvatore Quarante il congedo della Guardia di Finanza della parrocchia di Piane d'Imperia assisterà al conferimento del Sacramento il vescovo coadiatore Monsignor Borghetti ed il vescovo di Ventimiglia Sanremo Monsignor Suetta e domani tutti gli permercati di Copp Liguria ospiteranno i volontari dell'associazione Cresci che chiederanno i soci e i clienti di acquistare un giocattolo da destinare in solidarietà i giochi raccotti saranno poi donati ai bambini ricoverati presso le parti di pediatria degli ospedali San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietraligure alla Onlos Gasline di Genoa e all'associazione di volontariato che operano negli ospedali del Levante Ligure e ancora domani alle 17 l'associazione culturale Musical I Love offrirà un'animazione musicale per i bambini e non solo ricoverati presso le parti di pediatria dell'ospedale di Sanremo gli artisti in abiti di scena legati ai temi tipici del Natale e al magico mondo delle favole eseguiranno dal vivo con solisti ed un coro composto da 15 attori cantanti brani della classica tradizione natalizia gospel e canzoni tratte dalle animazioni di Disney bene ora vediamo gli appuntamenti di Riviera Eventi i cantieri sull'autofiori e il quadrometeo e il quadrometeo e il quadrometeo questi cantieri in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della 10 Stavone a confine di Stato da lunedì 14 a domenica 20 dicembre in direzione Francia careggiata nord tra Borghetto Santo Spirito ed Albenga careggiata doppio senso per lavori sulla careggiata opposta da lunedì a venerdì anche notturno tra San Bartolomeo ed Imperia Est cambio di careggiata per adeguamento al viadotto Oliveto 2 da lunedì a domenica anche notturno per Imperia Ovest ed Arma di Taggia cambio di careggiata per il rifacimento della pavimentazione da lunedì a venerdì anche notturno in direzione Genova careggiata sud tra Arma di Taggia ed Imperia Ovest careggiata doppio senso per lavori sulla careggiata opposta da lunedì a venerdì anche notturno Tra Imperia Est e San Bartolomeo, careggiato a doppio senso per lavori sulla careggiata opposta da lunedì a domenica anche notturno. Tra il Benguesa e il Borghetto Santo Spirito, cambio di careggiata per la posa di barriere e forno assorbenti da lunedì a venerdì anche notturno. Vediamo il quadrometeo elaborato da ARPA al Meteo a Liguria con le previsioni di domani, sabato e 19 dicembre. Nella prima parte della giornata permangono condizioni di nuvolosità diffusa con deboli precipitazioni sparse. Nel pomeriggio l'attenuazione del flusso dei quadranti meridionali porterà ad una lenta diminuzione della nuvolosità con aumento delle schiarite. Umidità su valori alti, venti al mattino deboli meridionali, nel pomeriggio incalue e tendenti a disporsi regime di prezza. Il mare sarà poco mosso. Dopodomani, domenica 20 dicembre, ulteriore e parziale attenuazione della copertura nuvolosa. Cielo irregolarmente nuvoloso caratterizzato da alternanza di schiarite e locali addensamenti. Umidità su valori medio-alti, venti deboli localmente da est, in prevalente regime di prezza. Il mare sarà poco mosso o quasi calmo. Bene, noi ci vediamo qui. Grazie per averci seguito. A tutti voi una buona serata. Grazie.